salve amici benvenuti nel mio canale e carmelo guerrasi un abbraccio dalla sicilia facevo il montaggio dell'oscania s7 70 come vedete sono pieno di nuovi arrivi abbiamo la vernici che è pronto per la verniciatura poi abbiamo preso l'esc il modellino ovviamente della bruder abbiamo preso anche il rimorchio sempre della bruder che poi verrà collegato con la scania e poi è arrivata la fantastica radio fai sky 10 canali e più ho montato il motore poi sono già installato nel telaio per finire la centralina suoni la servona smx con modulo sonoro e niente si prosegue rimanendo spostanzati ora il prossimo step quindi verniciatura e poi il montaggio dei vari componenti e nel frattempo sta per arrivare la cittadina led per le luci sia della motrice che del rimorchio e mi raccomando tanti like tanti mi piace sia sulla pagina facebook sul mio gruppo e sia iscrivetevi sul mio canale almeno buon ragazzi ciao un abbraccio ciao 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 ciao